Abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere nei boschi, spiagge, strade o in posti diversi da quelli stabiliti è un atto di grave inciviltà, degrada i luoghi e danneggia l'ambiente in cui tutti viviamo. Spendere soldi pubblici per ripulire il Salento dai rifiuti diventa inutile se non ci impegniamo a mantenerlo pulito. Conferisci i rifiuti negli appositi raccoglitori. Un tuo gesto di quotidiana civiltà contribuisce al benessere comune e al futuro di questa terra meravigliosa. Se mi abbandoni, rifiuti il Salento. Campagna a cura della provincia di Lecce e dato Lecce 123. Quando passi da Giordignano nel cuore del Salento non puoi resistere al richiamo della natura e della storia. Usciti dal centro abitato inizia un vero e proprio paradiso dove il silenzio, i colori, la vegetazione selvaggia, il cielo, ti sovrassano. Ti immergi totalmente in questa realtà e cerchi di catturarne ogni ricchezza. Lo chiamano il Giardino Megalitico d'Italia, un percorso suggestivo, scandito passo dopo passo da simboli pagani e cristiani. Passeggiando per questi sentieri dove la terra viene calpestata, dove inciampi tra le dure pietre e dove il tempo sembra essersi fermato, incontri menire dolmen. Altari, tombe, luoghi di cerimonie magiche o soltanto simboli che propiziavano la fecondità. Una cosa è certa, il fascino di queste antiche costruzioni oltrepassa i secoli e a Giordignano si è perso ormai il conto di quante di queste testimonianze sia ricca. Gioielli immersi tra gli ulivi secolari e i muretti a secco. E che spiccano sotto i raggi potenti del sole, nel silenzio assoluto puoi quasi immaginare gli antichi riti. Poi riapri gli occhi e ti accorgi dello spettacolo che rende unica questa terra. Poi riapri gli occhi e gli occhi e gli occhi e gli occhi. Poi riapri gli occhi e gli occhi. Poi riapri gli occhi e gli occhi. Poi riapri 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 gli occhi.